Ma è molto difficile giudicare l'etica di Nietzsche anche a causa dell'assistematicità dell'opera nicciana che certamente non ha aiutato nell'impresa, anzi come è noto su Nietzsche si è detto tutto il contrario di tutto. Ora per semplificare molto la questione potremmo dire che ci sono due alternative nell'interpretare l'etica nicciana, da una parte possiamo dire che Nietzsche fa semplicemente il provocatore, Nietzsche vuole rompere gli schemi, vuole fare una critica, dare un giudizio in negativo. Dall'altra parte invece potremmo vedere un intento costruttivo in Nietzsche, positivo. Nietzsche vuole fare effettivamente una nuova etica, una etica alternativa rispetto a quella borghese. Vorrebbe fare sotto questa prospettiva un'operazione piuttosto simile a quella kierkegaardiana. Però in Nietzsche la nuova etica si oppone anzitutto in modo poderosissimo, quasi ossessivo, al cristianesimo, laddove chiaramente Kierkegaard si muove all'interno di un orizzonte protestante, per quanto molto poco ortodosso. Quindi in questo caso se intendiamo l'intento etico nicciano come qualcosa di propositivo, di positivo, allora possiamo dire questo. Nietzsche ha indubbiamente in mente, per fondare la sua nuova etica, il magnanimo di Aristotele, quel virtuoso che si rapporta a ciò che è grande, per i Megana. E' stato spesso notato come Nietzsche, che conosceva molto bene i testi greci, per sviluppare la sua etica, si sia richiamato puntualmente a quel passo del libro quarto della etica nicomachea, in cui Aristotele appunto ci parla di megalopsuchia, della fierezza, talvolta viene tradotto così questo termine. Leggiamo allora cosa scrive Aristotele, sembra veramente di leggere il ritratto dell'uomo etico, inteso da maniera nicciana. L'uomo fiero è colui che si stima degno di grandi cose, la fierezza consiste nella grandezza. E continua Aristotele, l'individuo fiero, dato che è degno dei più grandi beni, verrà ad essere una persona eccellente, infatti migliore l'individuo, più grandi sono i beni di cui è degno. E l'individuo superiore è sempre degno dei beni più grandi. Perciò un individuo che sia davvero dotato di fierezza deve essere virtuoso. E si può pensare che sia dotato di fierezza chi è grande in ciascuna virtù. E non gli si addice affatto il fuggire a gambe levate o commettere ingiustizia. A quale scopo infatti dovrebbe compiere azioni vergognose, colui per il quale nulla è abbastanza grande? L'onore costituisce un premio alla virtù e viene attribuito ai virtuosi. Ora, la fierezza sembra costituire un ornamento delle virtù. Infatti le rende più grandi e non si genera senza di esse. Per questo è davvero difficile essere un individuo fiero. Non si può essere tali senza una virtù perfetta. Ecco, l'individuo fiero è proprio colui il quale realizza se stesso, fa fiorire se stesso. Questo è un punto caro a Nietzsche. Fa fiorire se stesso con grandezza. La persona fiera, continua Aristotele nel libro quarto, affronta grandi rischi e quando lo fa non risparmia la vita. Nella convinzione che non sempre la vita è degna di essere vissuta. Egli non è capace di vivere seguendo l'opinione di un altro. Infatti comportarsi in questo modo è da schiavi. Qui sembra veramente avvicinarsi al discorso nicciano. E poi l'uomo fiero di Aristotele è autosufficiente. E si ritiene anche che l'incedere dell'individuo fiero sia lento, la voce profonda, il modo di parlare pacato. Infatti chi si preoccupa di poche cose non si agita, né chi ritiene che non ci sia nulla di grande nervoso. Da queste cose al contrario derivano la voce stridula e il passo affrettato. La fierezza quindi, conclude Aristotele nella sua disamina, riguarda i grandi onori. Ecco, il magnanimo di Aristotele è certamente una grande ispirazione per Nietzsche. Per questa morale, per quest'etica nicciana che anzitutto si vuole contrapporre al cristianesimo, che è di generazione. Sulla scia di Aristotele Nietzsche vuole far fiorire le disposizioni dell'uomo. Vuole mettere a frutto, in modo eccellente, la grandezza dell'uomo. Ed ostacolo a questa grandezza, a questo uomo etico che Nietzsche propone, è la morale tradizionale. Con le sue distinzioni di bene e male, di vero e falso. La morale tradizionale, la morale ebraica e poi cristiana, al grandioso preferisce l'ipocrita, che aiuta i deboli. E tuttavia si è imposta, questi deboli, miserabili, piccoli, pavidi, sono imposti sui grandi. Persino la virtù, la magnificenza, la magnanimità di Roma, a un certo punto ha dovuto chinare la testa davanti a quattro miseri ebrei, dice Nietzsche. Gesù, Maria, Paolo e Pietro. E questa degenerazione ebraico-cristiana passa nel mondo moderno, nel mondo borghese, che preferisce il gentleman inglese democratico, con i suoi parlamenti, con la sua democrazia rappresentativa. Questo gentleman inglese ha soppiantato le virtù, la magnanimità dell'aristocratico. Ecco, il magnanimo nicciano in qualche modo vuole riaffermare i potenti sui deboli, l'aristocratico sull'uomo borghese europeo. Vuole riaffermare trasimaco, potremmo dire. Il magnanimo nicciano è infatti potente, virile, ha delle nobili origini, sa essere crudele, ama la guerra, non ama il prossimo suo. Schopenhauer ci dice, devi amare il tuo prossimo. L'altro, per il magnanimo nicciano, non può essere amato, per il semplice fatto che il magnanimo nicciano, l'oltreuomo, non ha nessun altro, è al di là della dialettica, servo signore. Non c'è per lui nessun altro. Lui è il senso della terra. In questo senso l'oltreuomo nicciano ha un valore più che etico, estetico. Lui è colui che da solo, venute meno le solidità che danno la morte, che soffocano, proprie dell'etica cristiana, è solo lui, con la sua adesione alla terra, a dare senso alla terra. Ecco, è questa figura più estetica che etica che vuole essere proposta positivamente da Nietzsche contro la morale tradizionale borghese, ma soprattutto giudaico-cristiana. E per criticare il cristianesimo, Nietzsche ne fa una genealogia, ne va alle origini. Quali sono le radici, le origini di questa perversa etica cristiana? Ma la etica cristiana si afferma transvalutando la morale che precedeva l'etica cristiana, la morale dei signori. Nella morale dei signori dominavano gli aristocratici, i magnanimi, i superiori, coloro che sono di nobili origini, i coraggiosi, che sono forti, che sono uomini ascendenti, non discendenti. Cioè, i signori rappresentano il percorso all'insù della linea evolutiva, sono uomini pieni di vita, sono uomini crudeli, viridi, che amano la guerra, sono biondi, sono di carnagione chiara, sono delle aristocratiche bestie bionde, scrive Nietzsche, che ritornano all'innocenza della coscienza degli animali da preda. Costoro appunto impongono la loro giustizia che consiste nel utile del più forte, potremmo dire, con i nemici del platonismo. Costoro, queste bestie bionde, questi potenti che dominavano sui deboli, amano la vita e amando la vita amano la guerra, dice Nietzsche. Sono liberi, virili, muoiono sempre con fierezza, per questo spesso scelgono anche il suicidio. Mentre disprezzano i malati, i malati non sono altro che parassiti della società. Scrive Nietzsche, l'uomo divenuto libero calpesta la spreggevole sorta di benessere di cui sognano i mercatuccoli, i cristiani, le mucche, le femmine, gli inglesi e gli altri democratici. Si esprime in questo modo, così spreggevole Nietzsche. Per questo talvolta viene il dubbio, ma lo sta facendo con convinzione al dirà di tutte le sue contraddizioni interne. Contraddizioni che Nietzsche stesso sa di star ponendo in atto, oppure è serio, è provocatorio o è serio? O è un po' entrambe le cose? Fatto sta che in questa sua genealogia della morale cristiana, Nietzsche dice ad un certo punto questa morale dei signori, questa morale trasimachea, viene rovesciata dalla testa ai piedi dal cristianesimo, che opera una vera e propria trasvalutazione dei valori, di questi valori dei signori. La plebe, i conformisti, i mediocri, il gregge, i poveri, i deboli, hanno paura dei signori, dei forti. E questa paura spinge i deboli a costituire un sistema etico che favorisce i perdenti e che indica, a dita, come malvagi, cattivi, i superiori. E questa trasvalutazione dei valori, dice Nietzsche, è operata prima che dai cristiani, dagli ebrei. Nella genealogia della morale scrive Sono stati gli ebrei quelli che hanno osato con una terrificante conseguenzialità il capovolgimento dell'aristocratica equazione di valore buono uguale aristocratico, uguale potente, uguale bello, uguale ferice, uguale caro agli dei e l'hanno tenuto saldo con i denti dell'odio più abissale, l'odio dell'impotenza, affermando soltanto i miseri sono i buoni, soltanto i poveri, gli impotenti, gli umidi sono i buoni i sofferenti, gli indigenti, i malati, i deformi, sono anche gli unici devoti, gli unici beati solo per essi c'è beatitudine invece voi aristocratici e potenti siete per tutta l'eternità i malvagi, i crudeli, i lascivi, gli insaziabili, i senza Dio e sarete anche in eterno gli infelici, i maledetti e i dannati è questa transvalutazione dei valori che permette ai poveri, ai deboli, ai discendenti a coloro i quali vanno in giù e non vanno in su nel progresso dell'umanità ad andare al potere e andati al potere i cristiani, i deboli, l'umanità è corrotta i cristiani sono degli ipocriti identificano il migliore con il peccatore con l'uomo cattivo e invece il buono è sempre comunque il debole secondo la morale cristiana il buono è sempre debole e però questa è una grande ipocrisia, dice Nietzsche perché poi gli stessi cristiani quando si prendono cura dei più poveri colgono sempre l'occasione per esercitare violenza su quelli più poveri di loro li aiutano, tendono una mano ma al contempo fanno violenza su di loro insomma con questa affermazione dei miserabili causata da questo odio dell'impotenza che in modo vile opera una trasvalutazione dei valori rovescia dalla testa ai piedi la morale dei signori ebbene avvenuta questa trasvalutazione dei valori la razza umana è degenerata ora vince il debole, vince l'inferiore vince il gregge, il conformismo l'uomo etico kirchergardiano vincono i sistemi rappresentativi i sistemi elettorali dove viene eletto un montone che fa da guida al gregge per il gregge buona è poi la verità e la verità sono i giudizi sintetici a priori dice Nietzsche in realtà i giudizi sintetici a priori sono contro la vita e l'unico vero valore per la morale dei signori è appunto la vita la verità invece è quell'errore che ci soffoca dice Nietzsche va fatta quindi una seconda trasvalutazione dei valori dice Nietzsche i deboli, i mal riusciti devono perire questo è il principio del nostro amore per gli uomini quindi Nietzsche sa chiaramente di essere ovviamente anche provocatorio l'amore per gli uomini consiste nel sopprimere i mal riusciti, i deboli il valore supremo è la vita la vita che è al di là del bene e del male al di là della dialettica servo signore al di là della società civile si vuole solo esercitare la potenza la vita l'unico valore per questo oltre uomo che si riafferma che riafferma la morale dei signori l'unico valore per questo oltre uomo è la vita l'affermare sé il sé non è fondato e tuttavia proprio questa infondatezza è ciò che permette all'oltre uomo di dare senso alla terra di affermarsi come volontà di potenza e questa volontà di potenza è totalmente diverso rispetto a quella la volontà della scelta sciopenaweriana la volontà della scelta sciopenaweriano nega l'individuo gli fa negare la volontà la scelta sciopenaweriano ama il prossimo suo come se stesso la scelta sciopenaweriano viene meno alla volontà la scelta sciopenaweriano è dalla prospettiva di Nietzsche un debole un cristiano mentre l'oltre uomo anilciano è esercizio implacabile della volontà di potenza senza scopo non c'è più nessuna verità assoluta non c'è più nessuno scopo non c'è più nessun fine non c'è nemmeno più un soggetto che tende ad un fine l'uomo, scrive Nietzsche, è qualcosa che deve essere superato la grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo è un ponte, è esercizio continuo della sua volontà di potenza si afferma a sé senza più nessun assoluto e questa adesione implacabile alla vita che non ha scopi ma che è appunto come un ponte costituisce il senso della terra quando arriva l'oltre uomo sulla terra la terra acquista un senso dice lo Zaratustra nicciano certo voi potreste creare il superuomo forse non voi stessi fratelli ma potreste creare in voi i padri e gli antenati del superuomo e questo sia il vostro creare migliore ma quando l'oltre uomo si afferma e dà senso alla terra la storia non finisce non c'è nessun telos non c'è una fine della storia c'è invece l'eterno ritorno l'oltre uomo ritornerà sempre ritornerà un numero infinito di volte ritornerà sempre per dare continuamente senso alla terra e chi è questo superuomo? ma questo superuomo dice Nietzsche nei frammenti postumi è Cesare Romano con l'anima di Cristo grazie a tutti